ben ritrovati a tutti e buongiorno qui da Radio Rosso Nera è il ventidue gennaio del duemila ventiquattro lunedì quindi buongiorno a tutti e buona settimana visto che siamo proprio all'inizio di una settimana che non sarà l'ultima del mercato ma quasi ci si avvicinerà abbastanza buongiorno da parte mia della radio di tutti quelli che sono di nonda anche nella giornata di sabato che cioè insomma ci avete ancora una volta seguito quindi grazie ancora a tutti quanti grazie per i like le ricondivisioni eccetera 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 e grazie a tutti quelli che si sono iscritti al canale come avevo detto l'altro giorno durante le pagelle eh mi prendo venti secondi oggi sull'iscrizione al canale ve la faccio probabilmente molto breve a noi serve salire come il diciamo così numero di iscritti e quindi se apprezzate i contenuti e volete iscrivervi tanto è assolutamente gratis al canale potete farlo tranquillamente mettendo appunto l'iscrizione al canale così che il nostro numero di iscritti sale e lo dico proprio papale papale abbiamo più possibilità di venderci meglio e quindi se tra virgolette ci volete bene iscrivetevi al canale oppure no eh bando alle ciance andiamo subito all'editoriale di di quest'oggi eh sono cinque in realtà gli argomenti principali la casualità sta a zero parleremo un pochino del perché almeno per quanto mi riguarda il Milan ha iniziato a vincere perché vincere non è mai un caso come perdere non è mai un caso lo può essere in una partita singola ma non per un periodo poi continuiamo a riparlare di di quella ribellione di cui abbiamo parlato magari un mesetto fa un mesetto e mezzo fa sperando di continuare a parlare di ribellione e non di rimorsi il diritto di critica è una questione che riguarda Rafa ma non solo ne parleremo nel terzo punto il quarto punto è Milan d'Arabia perché mi sembra anche giusto dare un po' di aggiornamenti dare un po' anche la linea di quello che pensa la radio eccetera eccetera su questo su questo argomento e poi la casualità sta a zero parte due ovvero l'effetto z perché anche qui magari non è un caso allora eh numero uno la casualità sta a zero parte uno eh rosa sistema e fisico allora eh come ho detto poco fa credo che il Milan quando ha meritato di perdere ha perso e quando ha meritato di pareggiare ha pareggiare e in questo momento merita di vincere e quindi vince difficilmente il Milan riesce a rubacchiare vittorie e punti quando merita meno di quello che in realtà prevede eh ciò che ha fatto vedere sul campo quindi mi sembra anche giusto a dire abbiamo tanto criticato ottobre novembre in parte dicembre di come si è un pochino maltrattato il Milan si è automaltrattato per certi versi adesso devo dire senza fare ovviamente dei trionfalismi esagerati che fare otto partite sei vittorie un pareggio una sconfitta nelle ultime non è un caso e quindi vuol dire che qualcosa di buono è sicuramente fatto sia dal punto di vista tecnico che fisico eh una squadra che toccate tutto quello che dovete toccare però che ha un attimino migliorato le sue performance oltre che atletiche anche dal punto di vista degli infortuni non è un caso come non è un caso che in ultimi tre quattro anni ci si faceva male sempre ottobre novembre dicembre non era un caso e non è stato un caso neanche quest'anno come non è un caso che da un po' di tempo a questa parte siamo un po' andati migliorando praticamente abbiamo credo avuto soltanto per il il piccolo stop di Florenzi che ogni tanto ci può stare quindi se il Milan ha cambiato metodologia di allenamenti in parte e in parte proprio così se ha iniziato a rintrodurre qualche lavoretto in più di forza cosa che un po' il calendario ti permette di fare perché giocando una volta a settimana ti puoi permettere il lusso di caricare un pochino di più nei primissimi giorni di settimana intorno alla metà della settimana finisci con i lavori di forza veri e propri inizi un po' a scaricare poi arrivi verso il venerdì o il sabato se giocheremo alla domenica tra poco per essere un pochino più brillanti e mettere brillantezza togliendo i lavori di eh di forza questo grazie al calendario e grazie anche un così ravedimento chiamiamolo così un cambiamento nelle nelle idee generali che evidentemente paga non so se verrà mai ammesso perché vorrebbe dire ammettere di aver palesemente sbagliato in precedenza però si potrebbe anche fare per dire giustamente c'era un errore si alza la mano si dice ho sbagliato si corregge e si va avanti come spero che eh accada da qui in poi e come spero accada da qui in poi come avevamo detto nelle ultime settimane di rivedere sempre più il Milan stabile nelle sue posizioni senza cose stravaganti con la possibilità tra l'altro per la prima volta dopo non so quanto tempo eh era da tempo in memore che non vedevamo una formazione uguale all'altra in sette giorni con sette giorni siamo riusciti a farlo non è un caso che vinci non è un caso che porti a casa il risultato così come non è un caso che porti il risultato perché ti danno a mano la panchina perché la panchina finalmente è tornata a popolarsi di eh giocatori di prima squadra e meno i giocatori della primavera che con tutto il bene e rispetto che possiamo avere loro e comunque rimangono degli ottimo degli ottimi prospetti pur sempre giocatori di diciassette diciotto massimo diciannove anni sono a volta addirittura a sedici quindi giocatori di prima squadra della nostra rosa che mi ripeterò per l'enesima volta scusate ancora ma reputo la nostra rosa nettamente superiore a quello che ha fatto vedere finora ed è il motivo per il quale molte delle arrabbiature dei mesi di ottobre novembre erano arrivate perché perché evidentemente se la nostra rosa non ha retto il peso delle tre partite il fatto di reggere bene sul campo in termini qualitativi è perché sono stati commessi anche qui degli errori è inutile stare a dire adesso a fare il conto dei punti all'anno dello scudetto eccetera perché adesso dopo passa al numero due se no facciamo una stagione più che di ribellione di rimorsi e non va bene detto ciò continuo a pensare e lo ripeto per la centotrentesima volta che siccome questa rosa è talmente buona che riesce a praticamente da un mese giocare e vincere col difensore numero quattro numero cinque numero sei della rosa vorrei vedere altre squadre riuscire a fare così riesce a giocare praticamente con un centrocampo che non è mai uguale a se stesso se non con renders e adesso fortunatamente e non è un caso è tornata a vincere il milan quando ha messo due giocatori di qualità in mezzo al campo senza spararli uno davanti uno dietro ma mettendoli vicini e quando ha preso gol a udine indovina un po non è un caso non erano vicini in mezzo al campo perché a volte a volte il calcio è abbastanza semplice e se il milan gioca semplice semplicemente vince perché è due volte più forte a metà delle squadre di serie a e almeno una volta più forte rispetto a tre quarti di serie a poi ovviamente sarà combatte con le altre tre quattro squadre di pochino più di vertice forse qualcuno anche superiore ma non poteva permettersi il milan di vivere una parte di stagione completamente staccata dalla vetta anche in termini pratici di qualità di quello che faceva vedere sul campo per ora è rimasto il distacco in classifica e qui andiamo alla seconda parte ribellione rimorsi proprio perché mi sembra atto sembra un errore fare il conto dei punti che sarà cimolando il milan come era in pratica in passato per il semplice fatto che sarebbe la dimostrazione che il milan si è accumulato tutti questi punti nonostante i tanti problemi tattici e fisici che ha palesato nei mesi autunnali voleva dire che la rosa non era così scarsa il mercato non era così sbagliato eccetera 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 non è una rosa completa e perfetta ma non è nemmeno una rosa che prendeva due gol dal Lecce due dal Napoli prendeva tre pere dal Borussia di Dortmund usciva dalla Champions si si faceva mettere in piedi in testa dalla Salernitana eccetera eccetera quindi siccome non vorrei fare sì che questa stagione diventa quelli dei rimorsi dicendo caspita se ci mettevamo meglio in campo in quei due mesi autunnali se non sballevamo la preparazione estiva e non arriviamo con quattro tendini saltati e 236 problemi muscolari se 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 forse avevamo un altro tipo di stagione quindi siccome questo rischio un pochino probabilmente c'è perché bisognerà rincorrere su qualcuno che tra l'altro corre forte io continuo a sostenere che bisogna ribellarsi a questa stagione non bisogna appiattirsi non bisogna lasciarla andare e ne parliamo nell'ultimo punto di questo a proposito di ciò il diritto di critica molto spesso alcuni di voi ci chiamano radio leao perché difendiamo tanto rafa e a volte probabilmente sì siamo anche un pochino talebani in questo non ascoltiamo le critiche su rafa più che per altri giocatori questo questo sì si può anche ammettere ma per il semplice motivo che molto spesso non sono critiche ma sono giudizi al valore del giocatore io direi che sia anche arrivato il momento di scindere un pochino quelle che sono le due specifiche cioè il valore intrinseco del ragazzo il giocatore e la critica su quelle che sono le ultime prestazioni se no altrimenti si sta un giorno sul melo un giorno sul pero quando fa gol campione incredibile e quando invece fa una brutta prestazione a nuovo niang da sparare via perché almeno ci consente di salvare gli altri perché l'unico sacrificabile c'è una scala di grigi in mezzo che va soprattutto verso quello che è il diritto di critica mi sembra anche corretto se un giocatore che soprattutto per quello che reputiamo possa essere il suo grande potenziale la sua grande qualità se mette in mostra delle partite non propriamente felici è giusto criticarlo come sono stati criticati tutti i giocatori del minan dalla alla z dal più forte al più scarso da quando il minan esiste non lo so perché non c'ero però da quando ne ho memoria quindi da poco prima degli anni 90 in poi e onestamente una critica male non fa anzi serve a volte per essere da stimolo diverso è il fatto quando si traccia un giudizio un po' troppo trancheanne verso un giocatore che in un modo o nell'altro quello scudetto che tanto ci è piaciuto vincere ce l'ha un pochino messo lui sul petto soprattutto nella seconda parte se l'anno scorso in parte ci ha trascinato in champions league quest'anno qualcosina di buono ha fatto se devo essere onesto con me stesso un pochino in più da rafa me lo aspetto sempre e ha fatto qualcosina in meno di quello che mi aspettavo ed è proprio il motivo per il quale ogni tanto vediamo quei colpi esagerati che riesce a fare e anche in partite dove forse meriterebbe cinque lui piazza la zampata fa assist fa il gol con l'atalanta innesca la giocata che porta al gol ma è proprio la dimostrazione che ha del potenziale talmente enorme che la critica che quando lo dimostra così poco ci sta ci può stare milan d'arabia allora un piccolo distinguo prima di iniziare perché ognuno di noi ha che fa questo mestiere ha notizie più o meno verificate più o meno vere più o meno diciamo così che poi possono corrispondere alla realtà ma a volte tra l'altro la realtà va contro quella che la notizia in sé in quel momento perché la realtà cambia e quindi a volte si fanno delle brutte figure anche senza senza volerlo ma è un pochino a rischio ci sta quello che volevo dire è che boh non so come dirlo per essere il più politico possibile ma alcuni comportamenti verso notizie riguardanti possibili cessioni del milan di di chi magari non non ha la notizia o semplicemente pensa al contrario non sono state fantastiche nell'ultimo momento ma d'altronde un pochino chi si assomiglia si piglia dico soltanto una cosa ognuno di noi poi si fa l'idea voi voi magari dall'altra parte diciamo così della barricata vi fate un'idea di chi di chi seguire di chi leggere di chi di chi credere rispetto alle notizie che dà quello che possiamo dire noi tra i reti come radio è che mi sembrerebbe folle in questo momento dare del raccontapalle a qualcuno che parla di una possibile cessione del milan totale o soprattutto con l'ingresso di un socio che in questo momento è forse l'orizzonte principale per quanto riguarda redbird e il milan quindi mi sembra quantomeno anacronistico voltarsi dall'altra parte e tapparsi le orecchie dicendo non succede nulla va tutto bene così ma non che basti andando male però mi sembra anche doveroso in questo momento tenere gli occhi aperti e le orecchie anche su quello che può accadere nel prossimo futuro ora nessuno di noi ha la verità in tasca anche perché come ho detto poco fa la verità poi viene diciamo così confermata dalla realtà e la realtà dei fatti in questo momento è che una trattativa vera e propria quindi con un con un compratore singolo dall'altra parte del tavolo che si metta a trattare palesemente con il milan chiedendo un'esclusiva eccetera eccetera probabilmente in questo momento non c'è ma ma non vuol dire che non ci siano stati colloqui non vuol dire che non ci siano stati incontri non vuol dire che ci siano stati viaggi non vuol dire che c'è dell'interesse sia da parte di chi vende di chi compra di ascoltarsi e di capire se c'è la possibilità di fare un affare con l'ingresso di un socio o magari di chi socio non vuole essere e si decide di entrare decide di entrare per davvero e prendersi tutto il cucuzzaro quindi quello che mi sento di dire è in questo momento ci sono colloqui aperti sì trattative ben definite con un unico ente forse è un pochino troppo dire che non c'è nulla di nulla di nulla mi sembra un grave errore e soprattutto mi sembra un grave errore dire ad altri colleghi o a sbeffeggiarli se la si pensa al contrario di ciò che si pensa ma tant'è come detto chi si assomiglia si piglia la causalità sta a zero parte due l'effetto z allora anche qui potremmo dire che è un caso magari è anche vero è anche così il milan da quando ha comunicato o meglio si il milan l'ha comunicato da quando zlatan è entrato nel mondo redboard il milan ha giocato otto partite ne ha vinte sei ha pareggiato a salerno e ha perso in casa contro l'atalanta nel turno di coppa italia allora non è sicuramente un caso credo non è ovviamente tutto merito di zlatan ci mancherebbe non è che altrimenti davvero si intitolano le chiese e lo leggiamo a divinità però però è un dato statistico interessante che il milan in parte si è ripreso anche perché da quando c'è zlatan i risultati sono sono migliorati casualità non casualità esercizio così di di fede non lo so questo questo magari ce lo dirà al tempo però vi riporto il dato da quando è ufficialmente in carica non nemmeno come dirigente milan puro ma come dirigente di redbird che si occupa anche di milan otto partite sei vittorie un pareggio una sconfitta e quindi e un po di effetto zlatan probabilmente probabilmente è arrivato detto ciò va bene no dai siamo arrivati in chiusura non vi voglio non voglio tediare oltre volevo anche fare una chiusa su mike ma credo che mike abbia fatto una chiusa direttamente lui quindi è inutile stare in questo momento a ribadire ha giustamente parlato mike si legge tra ricordato quello che ha detto mike che sono cose particolarmente fungenti pesanti e dritte anche facendo quasi i nomi e i cognomi e quindi mi sembra che quando diciamo così parla la fonte diretta è giusto far parlare la fonte diretta siamo arrivati in chiusura di di questo editoriale se volete mettere like in uscita altrimenti ci ritroviamo alle 10 con obbligo di riscatto tutti gli appuntamenti lunedì classici ovvero chiamina lanci talk e in serata la lavagna tattica buon lunedì buona settimana e a dopo a dopo a dopo a dopo